Ciao ragazzi, qui è Mark e bentornati a questo nuovo video di Minecraft. Oggi, come da titolo, apriremo il Lunala fatto in PixelmonLuckyBlock e per questo ragazzi vi invito a lasciare 1500 mi piace perché superiamo i 1500 like faremo la sfida invece del mio tutto, quanto in stone, ricoperto completamente di PixelmonLuckyBlock. Oggi siamo qui con Lunala, come vedete ancora l'ha stato così perché volevo mostrarvi la tutta quanta interamente è stata vincitrice della sfida, dei commenti dello scorso episodio e vi ringrazio davvero di cuore perché in tantissimi avete commentato e votato. Quindi lasciate un bel like e un bel commento e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Quindi bentornati con Lunala fatto in PixelmonLuckyBlock. Come vedete ragazzi però c'è solamente, diciamo, l'ancora sotto il PixelmonLuckyBlock di Lunala perché fidatevi di ricoprire tutta quanta la zona di Lunala di LuckyBlock è impossibile. Purtroppo con WorldEdit i blocchi dei PixelmonLuckyBlock non mi li segnava, non mi li dava quindi mi è stato completamente impossibile ricoprire tutta quanta questa zona qui. Però cercheremo un escamotage per far sì che il Mewtwo venga ricoperto quanti i PixelmonLuckyBlock se superiamo i 1500 like. Io direi di iniziare subito perché voglio trovare un Lunala. Questa cosa voglio farla. Quindi speriamo di trovare un Lunala, è vero che dentro però è vuoto, ma do, sarà un casino per tutti quanti questi LuckyBlock in cima. Vabbè, facciamo una cosa, iniziamo a aprire questi qua che sono sul lato. Ovviamente, cosa sfideremo alla fine ragazzi? Mi sembra anche logico non dirvelo, uh che bello questo Ponaita. Comunque, sfideremo una serie di Lunala, tutti quanti modificati. Sarà Lunala Shiny, ci sarà Lunala Normale, ci sarà un Lunala all'80, gli altri due saranno al 70 e quindi sarà una sfida molto difficile. Però, essendo che sono tanti LuckyBlock secondo me, io spero onestamente di trovare tanti altri Pokémon che davvero un Lunala almeno ce lo deve dare. Un E-Dragon al 71 però, tanta roba. Comunque, come sempre ragazzi, solitamente quando abbiamo il Pixel on LuckyBlock abbiamo un topic di cui discutere e solitamente il topic è io che sbaglio i nomi dei leggendari negli altri video. Comunque, ehi tu Bamber, vieni qui, Bamber! Ok, perfetto, comunque sono riuscito a prenderlo. Settimana prossima ragazzi, sarà una settimana piena zeppa di idee nuove, quindi fidatevi. Fatemi sapere in questo video i commenti, anche se per esempio siete tornati dalle vacanze e mi sembrava un Lunala, invece era un Shandelure. E quindi nulla, comunque ora vediamo un attimino perché Pokémon 6 non credo neanche di prenderli. Bellisti, ho trovato un Porcellino, un Creeper, un Lupo e una Mucca in pochissimi secondi. Vieni qua, Bamber al 40, non si è voluto neanche far catturare. Un Bamber al 9, un Bamber al 5. Raga, ok, Solgaleo, non è un Lunala ma è un Solgaleo. Partiamo molto bene, comunque, via. Uh, un Ondur, un Pokémon al 40. Dicevo, eh, ovviamente raga, già metto una piccola premessa, sbaglierò il nome di qualche Pokémon, è normale, tanto lo sapete. Però piano piano stiamo imparando, raga, dovete... Un altro Solgaleo? Ma stiamo scherzando? Ma... calma, io ho chiesto un Lunala, non un Solgaleo in questo video. Vabbè, comunque, continuiamo ad andare avanti. Un Dragonair va bene, continuiamo qua a spaccare altri Lucky Block. Non è che mi sto lamentando, raga, onestamente, dei video Solgaleo, ve lo giuro. È che, diciamo, è stata una cosa un pochino inaspettata, se così possiate finire. Lasteriamo il terzo Solgaleo in pazzisco. Intanto troviamo un bel Gabite, non era un Garchomp, mi sembra, un Latias. Nello scorso video dei Lucky Block, quello che dovevamo prima droppare tutti quanti i legendari per poi riprenderli, mi erano sponati pochissimi legendari, ora già tre. Nido Queen, grazie, grazie mille che sei entrato. Molto bene, poi l'altra volta ho detto nei commenti, persone che stavano lamentando perché non mi sono accorto che c'era un Pokémon Shiny, raga. Me spiasa, non ci posso fare niente, andando un Pokémon al 56, molto, molto bene. Continuiamo comunque, perché sono tantissimi, grazie, sono veramente tanti Lucky Block qua ad aprire, quindi non è che adesso mi metto accanto a tutti quanti i Pokémon, oddio, lo sto già facendo. Tu sei uno di quei Pokémon, il Zygarde, che la gente si lamentava sul fatto che io non ti conoscevo. Chiedovenia, caro Zygarde. Vabbè, ora l'ho conosciuto un altro Latias. Regà, sono leggendari questa sfida, volete dirmi? Partiamo bene, partiamo bene, perché adesso poi mi direte, Marco, mi è normale che sono leggendari. Hai avuto tantissimi Pixabon Lucky Block, quindi li stai trovando tutti quanti, regà. Ok, ma se vi ricordate, quando mi ha aperto i 300, io ne avevo trovati veramente... Ma ti pare il caso, Slowbro? Con che cattiveria sei arrivato così cattivo? Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Comunque, continuiamo ad aprire... Due cavalli di fila? Ottimo! Allora, altri Pokémon che non mi faranno assolutamente nulla. Contro un'ala, uno Xerneas, che tanto non ha mai le mosse tipo Folletto quelle belle, quindi non posso usarlo. Altro Team Rocket, regà, per parte di schiena prossima, un'altra bella sfida con il Lucky Block. Buongiorno! Lei è il Signora Ivelta, infatti, se non sbaglio. Non voglio più far fail con i nomi degli legendari. Quindi, ora li apro, vado sul Pokédex e poi vi dico il nome, perché sennò... Marco, ma quello lì si chiama così. Ciao Landorus, vedi, questo qua lo conosco, perché mi esce sempre nei Pixelmon Lucky Block. Comunque non posso lamentarmi per ora, perché secondo me siamo a un terzo dei Pixelmon Lucky Block. E mi sta andando benino, anche se Lunala non mi è ancora uscito. Però posso anche non lamentarmi. La mia prossima speranza è trovare un Regigigas. Vabbè, regà, noi continuiamo ad aprire i nostri Pixelmon Lucky Block. Ovviamente, io spero che voi guardate tutta quanta il momento di cattura del Maizal 41. Che palle. Io una volta l'ho trovato solo del Maizal fortissimo a livello troppo alto. Poi mi è sempre trovato a livello molto, molto basso. Beh, fa niente. Comunque, altro Team Rocket. Mi è frizzato tutto quanto. Ok, un Geridos, molto bene. Continuiamo ad aprire un po'. Devo essere un po' più veloci. Ok, un Tapu Cocco, raga. Madò. Spettacolo! Mi sto divertendo un sacco, raga, eh. Perché ci stanno arrivando veramente tanti Pokémon leggendari. Molto forti. Articuno! Raga. Qua si svolta perché è tanta roba un Articuno. È tanta, ma tantissima roba. Continuiamo. Un altro Lino. Qua ci sono altri Pokémon. Questi qua. Un Vicalvolta al 50 lo prendo. Dai, lo prendo. Cos'era questa cosa enorme? Allora, questi qua. Il Tucanon. Bellissimo. Si chiama Tucanon se lo sbaglio. Ah, ok. Vieni qua, Bomber. Grazie. Questi qua li catturo, raga, perché mi danno un botto fastidio quando parlo. Li sento sotto nell'orecchio. Veramente mi tiltano tantissimo. Uh, un'altra Ivelta! Raga, madonna, quanti leggendari. Tutti belli, tutti forti, però... Manca quel leggendario che vogliamo tutti quanti che appena esce esultati insieme a me. E oggi abbiamo tantissimi là... Cioè, raga, abbiamo ancora tutta quanta la sezione di là di Lucky Block da aprire. Abbiamo questo. Madonna! Questa parte qua non posso lasciarvela uncut. A meno che io parto adesso di cattiveria e inizia a aprire tutti quanti... Fritz. La Hunter Hunter 65 lo prendo. Comunque, ho capito. Dobbiamo muoverci. Dobbiamo muoverci. Fatemi sapere nei commenti anche, raga, davvero. Voglio sapere, perché ci tengo molto, se la parte dove apri Lucky Block la volete più veloce o magari... Cos'è sei? Ah, è un Upa con la lì versione... Con la tutta quanta strana. Wow! Di solito gli Upa li trovo sempre nella versione quella quando è piccolino. Comunque, dicevo, scriveteli in questo tono i commenti magari se volete un'apertura di Lucky Block un po' più veloce rispetto a magari un'apertura di Lucky Block un po' commentata, dove vi parlo dei vari Pokémon che trovo. Perché io mi soffermo un sacco di volte, raga, parlo tantissimo. Quindi ci terei da parte vostra a sapere cosa ne pensate della mia apertura di Lucky Block o queste cose qui. Ci tengo molto, ma molto, molto. Comunque, continuiamo qua ad aprire Lucky Block un pochino in fretta adesso perché davvero sto notando che di là ho veramente troppi Lucky Block da aprire. Quindi, un Latios però. Questi non sono da buttare, raga, perché comunque sono leggendari. Prendo Pokémon forti, tipo questa Camo... È una Camo, se non sbaglio, giusto? Ehi, tu, come ti chiami? È una Camo, infatti. Però è in battaglia, dai, lasciamolo stare. Dobbiamo aprire tutta quanta questa sezione qua del Lunala, raga. Mi avete chiesto di aprire un Lunala intero? Cioè, pensate quanto ci sto mettendo ora ad aprire solamente questa sezione qua. Cioè, pensate davvero ad aprire tutto quanto un Lunala gigantesco. Con Marci, aprire quel Mewtwo potrebbe venire fuori un video di mezz'ora di Pixelmon Lucky Block. Ve lo guardereste. Davvero, io sarei molto ficci di portarvelo perché secondo me quel Mewtwo lì potrebbe durare veramente mezzo... Rai Quasa! Dove è andato? Eh, volevi scapparmi, eh. Volevi scapparmi, ma non ce l'hai fatta. Sei stato ingabbiato da Lunala. Lì cosa abbiamo trovato? Niente... Qua c'è nulla di interessante, raga, se non sbaglio, eh. Ho visto... Ma... Scusatemi, Latios? Non l'ho catturato prima. Devo prenderlo, ci tengo troppo. Anche se c'è l'Espion, lì devo prendere l'Umbreon. In qualunque caso. Qua continuiamo ad aprire... Ho visto bene? No, ho pensato ci fosse un Cloyster. Niente. Ma è Merrill, è solo Merrill, ok? Tentabilità, raga, quindi vado ad aprire anche questa sezione qua di Lucky Block. Qua proprio mi muovo. Qua non commento tanto, voglio vedere. So se trovo Pokémon belli, Pokémon brutti. Ve li faccio vedere più che volentieri. Però continuiamo a fare una bella rasciatina di... No, leggendari qua l'hanno trovati. Cosa sei tu? Buongiornissimo. Non è Scrafty, assolutamente. Ma in realtà è un... Aiuto. Un Crabominable. Mi lagga tutto. Devo uccidere tutti quanti, ho capito. Wailord, potrei riuscirmi un po' meno... Cos'è? Una pillola enorme sta cosa. Ma Wailord, ma ti pare il caso? Wailord, quanti sono? Sti Lucky Block, raga, sono tantissimi. Davvero, io non ho parole. Non pensavo fossero veramente così tanti. Un Lapras! Ciao! Era tenerissimo stato il Lapras dello scorso video. Sono si tante a vedere, raga, qua in alto, sopra il mio faccione. Dopo questo video, un altro Rishyram. Ci sono tutti gli altri video della settimana da andare a vedere. Quindi se ne avete persi, correte a vederli. Però qua c'è da liberare un attimino sta zona. Questo qua è un tapo bulu. Ah, infatti, raga. Ma che vuole scappare lui, raga. Un Samurott, un Salamence, uno Scarmory. Basta, voglio Lunala, io voglio Lunala. Datemi un Lunala. Quanto lag a tutto quanto. Un Regigicas! Urca. Questo è da prendere. Questo è da prendere assolutamente. Assolutamente. Allora non vedo altri leggendari, però tecnicamente no. Sembra un Head Dragon, però voglio vedere di che livello è. Perché solitamente... Ah, no, sopra 70, ma è 65. Un Requaza! Un altro Requaza, raga. Madonna, madonna. Che bello, voglio aprire un Mewtwo intero così. Un Latios che però lasciamo andare. Un altro Iveltal. Ok. Questa cosa è molto comica. Uno Xerneas che sopra le sue corna trattiene tutti quanti... Tutti quanti... Raga, questo da screen è troppo epico. È uno Xerneas che sorge tutti quanti i Pokémon che sto trovando. Ok. Non pensavo fosse un cestino Xerneas. Lunala! Ragazzi! Lunala! Lunala alla fine, raga. Tanta roba! Signor Lunala? Signor... Non vorrei... Ok, grazie. Non volevo disturbarla, eh. Che trovandola così alla fine mi sono un attino spaventato. Wow, tanta roba, raga. Volevo proprio... Inizio da parlare dicendo... Dai, raga, mancano pochi Lucky Block. Speriamo esca Lunala. Boom! Veramente, vediamo cosa ci danno gli ultimi Lucky Block. Magari un altro Lunala. Marsciato! Ma va, raga. Che bomba gli ultimi Lucky Block. Ci danno un altro Lunala a questi Lucky Block. Non credo proprio... Ci hanno appena dato un altro Tappo che è un Tappo Fini. Però per il resto, onestamente, non so. Su, Ikun. Lasciamolo là, raga. Abbiamo già troppi Pokémon. Un altro Zygarde. Ok. Gli ultimi Lucky Block, raga, sono assurdi. Ho fatto una streaf di tipo 2-3 minuti senza trovare roba. Adesso trovo un Resshiram. Secondo me i tre Lunala li asfaltiamo con un altro Resshiram. Va bene. Però, raga, non ditemi che è squilibrata perché, comunque, lo sapete come funzionano le sfide. Io, per esempio, alcune volte, con tutti quanti dei G3 che avevo trovato, i tre Mewtwo... A parte che ho trovato anche un Mew da qualche parte che ho perso. Dove è andato il Mew? Oddio, quanto laggo! Cioè, comunque, i tre Mewtwo quella volta io non ero neanche riuscito a combatterli. Neanche a sfidare, neanche un Zapdos non l'avevo mai trovato nella sfida. Zapdos viene a me. Grazie, Zapdos. Comunque, dicevo, quella volta avevo aperto anche i tantissimi Pixelmon Lucky Block, ma non ce l'avevo fatta. Quindi, vediamo se riusciamo a combattere, comunque, contro Lunala. Perché non è detta che io vinca contro Lunala. Siamo arrivati praticamente alla fine, raga. Per davvero, però, guardate qua cosa è uscito gli ultimi. E andiamo a sfidare i tre Lunala leggendari. Zygarde all'85 mi è uscito! Oh mio Dio! E questa qua, ragazzi, è la mia squadra. Zapdos l'ho voluto mettere perché non l'avevo ancora mai trovato nei Pixelmon Lucky Block. Solo l'ho voluto mettere perché è uno dei miei leggendari perfetti ed è bellissimo. Poi ho messo un Marshadow, che è bellissimo. Lunala, ovviamente, Regigigas e il Zygarde che ha l'85. Ragazzi, ma io voglio scagliarlo subito contro il primo Lunala, che dovrebbe essere quello a 70 normale. Ho paura, voglio provare solo un Bite contro questo Lunala a 70. Metà vita l'ha tolto, raga. Però mi ha addormentato. Mi ha addormentato, ovviamente, il mio non si sveglierà mai. Lui ha ripristinato la vita, sarà una lunga battaglia molto difficile. Firepunch su un bel Lunala, vediamo se lo riesce a bruciare. No, eh, Regigigas, no, eh. Mi ha addormentato anche Regigigas. Ho capito come andrà l'andazzo della battaglia. Allora, un Lunala contro Lunala, facciamo così. Ah, ho solo confusione nei attacchi per il mio Lunala, raga. Male, molto male, perché tanto non gli fa assolutamente nulla. Continuiamo a fare le confusione. È caduto anche Jum, povero! Ripristina la vita, non iniziamo a farci assorbimento perché davvero non la sopporto questa situazione qua io, eh. Mi ha addormentato anche Lunala. Non possiamo far addormentare tutti quanti i Pokémon però qua, eh. Vai, Marshalo, pensaci tu. Fammi un Sucker Punch che è super efficace. Mi ha addormentato anche il Marshalo. Faccio tutte le mosse che non hanno senso di esistere perché tanto almeno prima o poi si sveglierà il mio Marshalo. Oh, buongiorno. Ma basta addormentarmelo! Ok, il mio Marshalo sta attaccando. Un altro bel Firepunch mi ha addormentato ancora. Regà, davvero, che battaglia orrenda. Cioè, guardate il mio Zapdos che non ha un attacco di tipo tuono, elettro, qualcosa. Ha un attacco pure di tipo acqua. Non so se questi Lucky Block fanno veramente... No, no, non è vero che fanno schifo. Però sono molto strani. Però piano piano il nostro Zapdos sta attaccando. Sbaglio. Sbaglio a metà vita. Sbaglio a metà vita solo di Ansem Power. Non ho più attacchi. Chi è che c'ho? Sono Galeo. Buongiorno. Non addormentarmi anche lui. Ti prego, basta. Facciamo un Flare Blitz. Vediamo se ti fa qualcosa. Dai, qualcosina. Qualcosina. Ok, a vita rossa. Finalmente il primo Lunala se ne va, regà. Dopo che mi ha addormentato tutta la squadra se ne va. Ciao, ciao. Lunala è stato bello. È tornato così. Ok. Buongiorno. Lunala... Lunala... Questo qua è all'80. Ok. Ha messo Lunala all'80. Calma. Ma ce l'ho tutti addormentati. Tranne Zapdos, però, che cocchi... Cioè, non ne posso far nulla. Ecco. Pure il critico. È finita, raga. Tutti addormentati. Finisce così. Svegliati, Zaygard, ti prego. Non si sveglia, regà. Cioè, me ne ha addormentati tutti. Il primo Lunala. E poi me lo tanca così. Ha failato, però. Un altro bite. Uuu, vita rossa. No, non morirmi. Sì, che non è morto. Un altro bite. Yes. Lunala shiny è l'ultimo. Lunala shiny è l'ultimo. Un altro bite, ti prego. Yes. Ora puoi morire, Zaygarde. Vediamo. Ok, non mi ha ancora attaccato. E va a vincere così con Zaygarde. Madò, raga. L'ho vista malissimo. A un certo punto erano tutti addormentati. Va bene, raga. Va benissimo, dai. Vi invito a lasciare un bel commento. Spero che questa sfida qua vi sia piaciuta. Lasciate un like. Iscrivetevi. Se ancora avete fatto, la marca è tutto. Ciao.